Una delle novità di questi ultimi due anni su Illustrator è sicuramente la comoda funzione esporta per schermi che rimpiazza in qualche modo la vecchia salva per web. Si tratta sostanzialmente di un nuovo modo di generare risorse di diverse dimensioni e formati file con un solo clic. In poche parole questa nuova funzione rende rapida l'esportazione di icone e loghi soprattutto per quanto riguarda flussi di lavoro web e dispositivi mobile. Vi faccio un rapido esempio. Nel mio documento abbiamo due tavole da disegno contenenti diverse icone. Adesso vi mostro un po' l'opzione esporta per schermi quindi vado su file, esporta, esporta per schermi. A questo punto mi trovo all'interno di una finestra di opzioni in cui nella parte superiore sono presenti due voci. Tavole disegno che mi mostra le due tavole da disegno presenti e qui posso andare a decidere selezionandole quali delle due esportare e qui sulla destra ho la possibilità di definire il percorso di esportazione quindi la cartella di destinazione e posso decidere il formato di esportazione. Però non è quello che a noi interessa perché voglio concentrarmi sulla finestra risorse dentro la quale vedete possiamo aprire un pannello che si chiama pannello esportazione risorse che viene prontamente aperto e dentro il quale possiamo andare ad inserire solo gli elementi che possiamo esportare. Quindi se da una parte potevamo esportare le due tavole contenenti ovviamente tutti gli elementi con questo pannello possiamo esportare solo gli elementi che desideriamo e per farlo ci basta selezionare per esempio un'icona trascinarla all'interno del pannello. Ok vedete che viene generata una risorsa che possiamo andare a rinominare in cartella e questo sarà il nome del file quindi il file verrà esportato in un formato png e avrà il nome di cartella.png. Possiamo quindi andare ad inserire anche questa bandierina e nominarla come bandiera. Quindi selezionando ovviamente le risorse da esportare facendo clic sul pulsante esporta verranno esportati due file in png ovviamente rinominati cartella e bandiera. Potrai eventualmente anche aggiungere più risorse contemporaneamente per farlo basta selezionare selezioniamo per esempio queste quattro risorse e le trasciniamo all'interno del pannellino per i che vengono separate automaticamente e quindi in questo caso otterremo sei diversi file in formato png. Se invece trasciniamo e teniamo premuto il tasto option oppure alt verrà creato un'unica risorsa contenente le quattro icone quindi abbiamo diversi modi per andare a esportare le nostre risorse. Un attimo però perché non è tutto. La funzione esporta per schermo infatti permette di fare molte più operazioni contemporaneamente. Per esempio permette di esportare questi file in più formati e in più dimensioni con un semplice clic. Possiamo infatti andare ad esportare il file in diverse scale quindi vedi qui abbiamo la possibilità di definire diversi tipi di scala e diversi formati. Come fare? Allora è molto semplice vado a rimuovere alcune risorse quindi le seleziono tenendo premuto il tasto shift faccio clic sul cestino. Teniamo come riferimento queste due risorse. Allora in questo caso andando a selezionare le due risorse facendo clic su esporta verranno esportate in 1x quindi nella loro dimensione naturale la dimensione che abbiamo creato all'interno di illustrator in formato png. Se faccio un clic su aggiungi scala vedi che viene aggiunta una nuova scala 2x. In questo caso le icone verranno esportate sia in dimensioni reali che in dimensioni raddoppiate. Ovviamente potrei andare a modificare il formato dell'esportazione doppia per esempio da png portandolo che ne so a svg piuttosto che a jpeg e l'svg ovviamente va a rimuovere la scalatura perché è un formato vettoriale quindi potrei decidere di esportarle in jpeg 100 e quindi facendo clic selezionando prima ovviamente i due elementi facendo clic su esporta verranno esportati 4 file 2 in formato png in dimensioni reali e altri due file in formato jpeg grandi il doppio rispetto alle misure impostate all'interno di illustrator.